Carlo Rovelli, benvenuto, sono un po' in imbarazzo, trovarmi davanti a uno scienziato, dico tanto senno, avrebbe detto qualcuno, un accademico che però ha scelto la Francia, non l'Italia, perché l'Italia ha sbaraccato sulla cultura e sulla ricerca e sull'università, per cui lei insegna fisica teorica, ma ha ex Marseille, per tanto tempo è stato anche negli Stati Uniti e questo mi interessa perché lì lei insegnava filosofia della scienza, quindi mettiamo insieme due branche che troppo lungo sono state distaccate e strappate l'una dall'altra, dicono le biografie che lei è noto per il contributo fondamentale al problema della gravità quantistica e poiché dicono anche le biografie che lei è bravissima a spiegare le cose a chi non capisce nulla. Mi dica in due parole qual è il problema della gravità quantistica. Grazie, grazie per questo invito, per questa presentazione. Gravità quantistica è il mio mestiere, noi sappiamo tante cose del mondo ma ce ne sono tantissime di più che non sappiamo e una di queste cose che non sappiamo è la gravità quantistica che vuol dire, adesso le dico una frase incomprensibile, le proprietà quantistiche dello spazio del tempo. In concreto vuol dire cosa succede nello spazio a piccolissima scala, molto 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 piccola, che è importante per capire cosa è successo al Big Bang, alla nascita dell'universo o cosa succede ai buchi neri. I buchi neri tutto casca dentro, nel centro, non sappiamo ancora cosa succede, non conosciamo le leggi fisiche che determinano cosa succede e il mio mestiere insieme ad altri è cercare di capirlo. Perché se io faccio l'esegesi di un canto della Divina Commedia credo di essere compresa? Se invece parlo di quantum loop gravity parlo arabo, puro. Perché? Ma io penso che sia per un atteggiamento non buono che ci hanno insegnato a scuola e che ci è rimasto un po' addosso. Io non so scrivere musica, ovviamente, perché non è il mio mestiere. Mi piacerebbe, ma non sono capace. Per me uno spartito è misterioso, per me la struttura di una sonata di Beethoven è misteriosa. Però amo molto la musica. Io posso leggere la Divina Commedia per molte persone altrettanto oscura come un pezzo di meccanica quantistica. Lei dice? Sì, assolutamente. Io conosco, posso portare innumerevoli amici miei che lo trovano misterioso. Io lo dico con convinzione. Io ieri mi sono addormentato leggendo un canto del Paradiso. Il primo, l'inizio della gloria di colui che tutto muove per l'universo. Ecco, ci sono tante persone che sono completamente sorde a questa bellezza. Benissimo. Nello stesso modo ci sono tante persone che sono sorde alla bellezza della scienza ed è un peccato, secondo me, per lo stesso motivo. Non è che tutti possiamo scrivere Divina Commedia, ovviamente. Non è che tutti possiamo scrivere musica e non è che tutti possiamo scrivere questioni di fisica e essere scienziato. Ognuno fa la sua. C'è chi fa l'ingegnere, c'è chi tira sui muri. Però possiamo apprezzare la bellezza da una parte e dall'altra. Io penso che se ci insegniamo l'un l'altro a farlo, questa separazione fra i due mondi, umanistico e scientifico, dovrebbe togliersi. Sì, che poi è un portato della cultura moderna, romantica, perché nel Medioevo erano molto più mescolate le cose. Era molto più mescolato nel Medioevo, certamente, ma fino anche all'Ottocento, fino all'inizio del Novecento, perché i grandi scrittori del Novecento, Musil, conosceva la meccanica quantistica, se la studiava, Kant ha studiato Newton profondamente, e solo, direi neanche col Novecento, ma addirittura nel dopoguerra, che c'è stata questa enorme frattura, a causa degli uni e degli altri, perché entrambi si sono separati. E in Italia, forse particolarmente, perché una cultura umanistica italiana, sia tradizionale, sia anche più contemporanea, un pensiero, diciamo, influenzato da Heidegger, ha visto la scienza come qualcosa che deve essere staccata. Croce non ha mai dato importanza alla scienza, Heidegger non ha mai dato importanza alla scienza. Secondo me è sbagliato. La grande filosofia riconosce l'importanza della scienza come la scienza deve riconoscere l'importanza della buona filosofia. E invece in lei come nasce questa passione per la scienza e questa passione per la fisica in particolare? In me nasce tardi. Io ho molti colleghi che erano appassionati di scienza fin da bambini, volevo fare scienziati da bambini. Io non so cosa volevo fare a bambino. Era un bambino intelligentissimo? Un bambino sveglio certamente, forse troppo coccolato da mamma. Poi sono diventato un adolescente ribelle, molto, forse perché ero troppo coccolato da mamma, quindi volevo sganciarmi. Scappava di casa a 13 anni, questo dicono le biografie. Questo dicono le biografie. Non è bello, non si fa. Non si fa? Non si fa. Sì, io scappavo di casa a 13 anni, è vero, però arrivavo lontano e telefonavo dicendo sto bene. Quindi diciamo sono sempre stato un po' così, un po' ribelle, ma in fondo… Un po' ribelle, c'è tutto il periodo bolognese, universitario, che è un periodo un po' movimentista per tanti, non solo per lei, c'era la Radio Libere. Sì, molto. Era un'epopea, si pensava di cambiare e di costruire un mondo diverso. Lei dice e scrive che c'è chi ha un ricordo magico e mitico di quegli anni che sono stati l'inizio di un percorso bellissimo. Io per esempio, come altre tanti, ricordo invece quel tempo come l'inizio di un periodo buio, cupo, un periodo di violenza, un periodo in cui si nasceva un odio molto forte che poi si è esplicitato con il terrorismo, con anni davvero di angoscia. Chi ha ragione? Ha nessuna ragione, diciamo, ognuno di noi vive le stesse esperienze da prospettive diverse, sono tutte vere le esperienze che noi viviamo, per carità. Quando ho scritto molti dei miei amici ricordano quegli anni come anni meravigliosi, l'ho scritto anche in modo un po' critico, anche per me sono stati anni bellissimi. Perché la nostalgia è un problema poi, si frena, no? Sì, perché poi la gioventù è sempre bella, c'è sempre qualcosa di bello nella gioventù, c'è sempre anche qualcosa di drammatico nella gioventù, cioè avere 18 anni è difficilissimo. allora come adesso? Quelli sono anni in cui, diciamo, c'erano morti ammazzati, ci sono stati, c'erano dei terroristi che ammazzarono i giornalisti, c'era la polizia che ammazzava i giovani studenti, quindi c'era violenza a un livello più alto di adesso, molto più alto di adesso. D'altra parte c'era una voglia di cambiare, una passione di politica che molti della mia generazione rimpiangono e che ha lasciato in tanti un entusiasmo per delle cose, per delle idee che continua. Questa passione si è trasformata in molti imposti di potere, non tanti di quei giovani che sognavano un mondo ideale si sono tranquillamente accasati in una posizione di alto prestigio, nei mondo dei media, nei mondo della politica, lei invece non ha scelto la politica, si è buttato sulla fisica. Sì, io, come dire, forse ho ereditato da quel momento una voglia di stare fuori dal mondo produttivo, come si diceva allora, dal sistema e di andare per la mia strada. Nella scienza ho trovato un po' la possibilità di poter continuare a essere me stesso, seguire le mie curiosità, i miei sogni, però potendolo fare all'interno di questa società. Direi quello che ho trovato è quello che l'università dovrebbe offrire di meglio, cioè da un lato l'insieme del sapere della cultura accumulata che è la nostra ricchezza, quello che fa la civiltà, perché noi siamo tutto quello che sappiamo. Dall'altro, nello stesso tempo, la consapevolezza che tutto questo può essere cambiato e modificato, cioè che non dobbiamo stare fermi, dobbiamo inventare mondi nuovi, perché il mondo di oggi è il risultato di gente del passato che ha inventato mondi nuovi. Allora l'università al suo meglio è questo, questo è il nostro sapere, criticatelo, imparatelo a fondo, seriamente, profondamente, ma non abbiate paura di provare cose nuove, idee nuove e di costruire mondi nuovi, perché il mondo potrebbe essere migliore di quello che è. Perché lei dice che la fisica è come la montagna, che è una metafora bellissima per un sacco di cose nella vita? Perché la fisica è difficile, come la montagna è difficile, è faticosa, però porta in luoghi mentali che sono aspri, essenziali e belli come l'altissima montagna. Io amo molto la montagna, purtroppo adesso ci vado meno, quando ero ragazza ci andavo di più e continuo a dirmi che scemo che sono perché non abbi in montagna. Però quando si va in cima, sulle parti più alte, io avevo molto le Alpi delle parti del Monte Bianco, ci andavo tutti gli anni da ragazza, lì dove c'è ghiaccio, roccia, cielo, nient'altro. C'è qualcosa di essenziale, di bellissimo, di splendido e io nella fisica trovo questa stessa cosa. Perché la fisica che cos'è? È questa immensa complessità del mondo che almeno da un certo punto di vista si mostra che c'è una grammatica comune, qualcosa di semplice che sta sotto tutto questo meravigliosa complessità, ricchezza di cose che è il mondo e questa struttura di base è semplice, bellissima, stratta, lontana dalla nostra vita quotidiana, come un'altra montagna. Adesso riesco a capire in parte perché lei vende libri di successo che portano temi apparentemente difficili alla comprensione di molti e perché si diletta di piccole virtù gentili, appunto, e di luoghi del mondo con estrema curiosità. È un cercatore, pensavo prima, leggendola. Di che cosa? Sono un cercatore, sì. Io sono proprio di quella generazione, sono proprio di quella generazione in cui al momento dell'adolescenza, dell'inizio della giovinezza, ci si diceva l'un l'altro ma tu cosa vuoi fare nella vita? Cercare. Io non lo so, cerco. In fondo, mi ricordo, era comune, era comune ai ragazzi di sinistra, era comune ai ragazzi cattolici, era comune, come dire, quello che conta non è quello che sappiamo e dove siamo, ma l'ignoto verso cui vogliamo andare. È stata un po' l'ispirazione della mia generazione in tante direzioni diverse. Sono curioso, sono sempre stato estremamente curioso, mi piace viaggiare, mi piace leggere. Io ho letto, 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 letto e continuo a leggere tantissimo. Diceva un grandissimo teologo che non c'è risposta più stupida a una domanda che non si pone, quindi bisogna sempre partire dalle domande. Per questo i suoi studi, i suoi interessi coprono anche lo spazio della filosofia, della scienza. Chi è l'uomo, professor Rovelli? Nel senso, chi siamo noi? Per quale motivo siamo qui? Io penso che l'uomo è un pezzo della natura. E questa è la grande scoperta della modernità, secondo me. Cioè, per molto tempo l'uomo si è pensato separato dalla natura. C'è la natura, il mondo così e poi c'è l'uomo fuori. Invece abbiamo lentamente imparato, ed è stato un esercizio di umiltà, che la terra non è il centro dell'universo, che le altre specie animali e addirittura vegetali sono i nostri cugini, abbiamo dei nonni e dei bisnonni in comune, che siamo come gli altri. Ci siamo rispecchiati nel mondo e abbiamo imparato qualcosa di noi. Ancora noi siamo misteriosi noi stessi, tantissimo. Perché delle tante cose che non capiamo della natura, e sono tante, noi stessi è una delle cose che capiamo meno, però abbiamo capito che la natura è la nostra casa. La natura è estremamente complessa. Prima dicevo, le equazioni di base della fisica sono semplici. Sono semplici, certo, ma poi dopo quello che ne viene fuori. La complessità del mondo è strepitosa, straordinaria. Nell'universo succede tutto il contrario di tutto, il contrario il contrario di tutto. Sì, è un meraviglioso caos o è un ordine meraviglioso? Sì, è una ricchezza, è una complessità. Noi siamo un pezzo di questa complessità. Ma io credo, non siamo esterni nella natura, siamo a casa nella natura. Questa è la nostra casa. E lei mi ha chiesto per che motivo siamo qua. Io penso che, questa è una domanda profondamente umana, perché noi umani abbiamo i motivi, come anche i gatti hanno i motivi, vogliono qualcosa, noi vogliamo qualcosa, noi siamo portati da qualcosa e quindi da dentro di noi, per quello che siamo fatti, per la nostra biologia, la nostra storia, la nostra cultura, i nostri pensieri, tutto, noi andiamo verso, noi siamo creatori di senso e la cosa più sciocca che io sento dire è siamo qui per nessun motivo, non c'è nessuna, la scienza ci insegna che non c'è significato nella nostra vita, la scienza ci insegna che noi siamo pieni di significato, perché? Perché amiamo, perché desideriamo, perché vogliamo essere i primi o perché vogliamo essere buoni. Perché soffriamo, perché ci troviamo a fronte al dolore terribile che non ha alcuna spiegazione e lo scandalo del male in mezzo a tutta questa meravigliosa natura non quadra. Quadro perfettamente perché c'è il dolore e c'è la gioia, questa è la complessità della natura. L'errore pensare, secondo me, cos'è lo scandalo del male? Lo scandalo del male, secondo me, è l'ingenuità che noi commettiamo, perché da bambini ci hanno detto guarda che il mondo è tutto buono, c'è un Dio che ti vuole bene, tutto andrà bene, no, 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 il mondo è quello che è, con i leoni che si mangiano, con i bambini innocenti che muoiono. Certo, e noi dentro di noi abbiamo questa rabbia e voglia di cambiare e di fare in modo che i bambini innocenti non muoiono. Questa è la nostra bellezza, perché? Perché noi siamo fatti così, siamo cattivi ma siamo profondamente buoni anche. Lei è uno dei pochi che ha il coraggio di definirsi ateo, io preferisco gli atei agli agnostici, perché gli agnostici il problema di Dio fingono di non porselo. Oh, una persona che dice questo, l'apprezzo molto. Perché tutti mi dicono, no, ma io preferisco gli agnostici, mi fa piacere che le dica questo. Beh, di solito, insomma, gli agnostici sono come i tiepidi, diceva la Bibbia, sarai rigettato dalla mia bocca, quindi per carità. Però lei pensa che uno sia credente per paura o per consolazione o per avere un vantaggio futuro? Non si può essere credente per amore degli uomini? Sì, penso di sì. Io non penso che chi sia credente sia sciocco o non veda le cose. Io penso che ci sono, che siamo diversi gli uni dagli altri, che abbiamo letture del mondo diverso, e prospettive sul mondo diverso, ce ne sono tante nel pianeta, e che dobbiamo rispettarci l'un l'altro profondamente. Per cui se una persona legge il mondo in termini di un Dio personale, va bene, lo legge così. Se una persona legge il mondo in termini come fanno i buddhisti, il dharma, il nirvana, va bene, io lo rispetto. Non è che questi però hanno dei problemi che afferiscono alla psicologia, secondo lei? La regione fa parte della storia dell'umanità, anche molto antica, non nella forma di un Dio personale, ma nelle forme più varie, di animismo, di politeismo, di spiritualismi vari, eccetera. Quindi diciamo, ha a che vedere con il modo in cui l'uomo legge il mondo e si mette in relazione col mondo. Io ho dei pensieri su queste cose qui, che forse sono sbagliati, non lo so. È un problema, però è un problema degli antropologi, secondo me, è un problema di capire cosa è successo all'umanità. Io leggo il mondo diversamente e vivo in un mondo in cui la maggior parte della gente legge il mondo diversamente. Non c'è un Dio personale, non per questo non c'è significato della nostra vita, non per questo non c'è una morale, non per questo… Ma che significato ha la morte? E non parlo della morte in generale, nell'evoluzione, nell'insieme della storia della natura o dell'uomo. Parlo della morte del mio amore, parlo della morte di un figlio, parlo della morte di chi mi è caro. Io penso che forse, diciamo, e ne parlo in questo libro, forse un insegnamento che io come ateo ho trovato in una religione che non pratico, è l'insegnamento che ci dice che la spiritualità più profonda per un essere umano è quello di accettare l'impermanenza profondamente. Noi non sappiamo come funziona l'universo, per carità. Gli scienziati sono quelli che lo sanno meno degli altri, gli scienziati sono quelli che non sanno, non quelli che sanno. La mia polemica con le persone religiose non è io so tutto e tu non sai niente, è il contrario. Tu mi dici che sai tutto perché sai che Dio ha fatto questo o quell'altro, io invece non so niente. La tua storia non mi convince, altre mi convincono ancora meno. Ci sono delle cose meravigliose nella religione come fuori, ci sono delle persone nel mondo cattolico, nel passato e nel presente, che io guardo con l'ammirazione, anche scienziati. Lei ne parla, ne descrive in maniera mirabile, un uomo di grandissimo coraggio, che riuscì a convincere un papa, è così umile da togliersi il merito di una scoperta fondamentale. Sì, è un uomo che io ammiro immensamente come scienziato e come essere umano. Cioè una persona che invece è un cercatore di verità, che era interessato a capire e non a mettere il proprio ego davanti. E non dirà io sono quello che ha scoperto le cose. Ne racconto la storia in dettaglio nel libro, è una persona meravigliosa. Le mette, che forse solo in questi anni sta ottenendo il riconoscimento scientifico che è veramente merito. Perché di fatto questo titolo lunghissimo, da film della Wirtmüller, Ci sono luoghi nel mondo dove più che le regole è importante la gentilezza, è un diario. È un diario in cui si raccolgono pensieri, in cui ci sono incontri, in cui ci sono anche tanti luoghi percorsi proprio con le scarpe o con i sandali qua e là per il mondo. Tante curiosità, tanti personaggi. È un diario intellettuale o spirituale, direi io, molto vivace e pieno di cose, di cose che fanno pensare che il mondo e la realtà sono avventurosamente meravigliosi da incontrare. Le domando ancora, e mi perdoni se insisto, diceva Pascal che la ragione va esercitata sul limite dell'incommensurabile. E lei ha fatto un accenno prima, un termine che va all'immortalità, che è il desiderio ultimo di ogni uomo. Perché non possiamo stare su quel limite, con la ragione, avendo il coraggio di andarci a fondo, piuttosto dicendo non so che risposta dare? Di solito gli scienziati si fermano prima e dicono questo non mi interessa. Allora, due cose. Le rispondo a due cose. Prima, io non penso che l'immortalità sia il desiderio ultimo di ogni persona. Io sono terrorizzato dall'immortalità. Non penso che siamo immortali. E per fortuna non siamo immortali. Io non voglio una vita immortale. Ma non le mancano i suoi cari che non ci sono più? Non teme per i suoi figli, per i suoi amici? Certo, ma accetto la realtà. Penso che la nostra vita sia limitata e penso che la nostra vita sia piena di gioia e di dolore. Penso che soffriamo e penso che la nostra vita sia bella perché è limitata. Perché è questo, è un regalo incredibile che noi abbiamo ricevuto. Lo sento così, è meraviglioso. Sulla ragione, io penso questo. La ragione per noi, esseri umani, è uno strumento strepitoso. Che abbiamo uno società bello, siamo capaci di mettere insieme i pensieri uno dopo l'altro e trovare errori in quello che facciamo. Ma noi non siamo ragione. Quello che ci fa non è la ragione. Quello che ci porta non è la ragione. Quello che ci porta sono i desideri, le emozioni, le passioni. Ci porta tutt'altro. Noi siamo fatti di fuoco, di acqua, di intensità, di bruciore, di tristezza, di disperazione, di gioia, di rabbia. È questo che ci porta. La ragione poi gestisce queste cose qua e ci fa dire no, attento, guarda che se fai queste cose qua poi ti penti e sbagli. Sbagli a fare una macchina, sbagli a prendere una decisione. Per questo la ragione è preziosa. Perché ci impedisce di fare errori. Ma non è che noi facciamo le cose a causa della ragione. Oppure la ragione è più larga e comprende anche il cuore. No, no, no. Cioè le emozioni. Io penso che la ragione sia solo la capacità dei nostri neuroni di fare delle previsioni buone e di farle buone, quindi di mettere ordine. Però la ragione sta studiando, e lei sta studiando, la possibilità che il tempo possa cambiare nella nostra percezione come categoria. Che noi forse potremmo tornare indietro, ritornare bambini. Noi potremmo forse vivere per sempre se il tempo è appunto un pensiero nostro e non è quello reale il tempo, no? Allora, se lei, come ha già fatto migliaia di volte, mi spiega bene il film Interstellar, io capisco. Nel film Interstellar c'è questo evento che colpisce molto in cui il protagonista principale, il protagonista è il personaggio principale, fa l'astronauta, parte in viaggio, gli succedono delle cose, passa del tempo vicino a un buco nero, eccetera, eccetera, torna sulla terra e trova sua figlia, questa meravigliosa bambinetta all'inizio del film con cui lui ha questa meravigliosa relazione, questa relazione padre-bambina-figlia è una delle cose più belle del film secondo me. Quando lui torna sulla terra trova la figlia invecchiata più di lui, e la figlia nel frattempo è diventata vecchia, sono passati per la figlia 70 anni, è una vecchia donna nel letto, e lui è ancora quarantenne. Bene, il punto meraviglioso è che questa non è una fantasia di Hollywood o dello sceneggiatore, questo è esattamente come funziona il mondo, il mondo funziona così, cioè il tempo per noi non passa in maniera uguale, può passare per uno più veloce, per uno più lento, questo succede per davvero, solo che nella nostra esperienza quotidiana sono piccolissime le differenze. Tra la montagna e il mare addirittura. Tra la montagna e il mare, diciamo. Se io vado sulle Alpi e passo un po' di tempo lì, quando torno giù ho vissuto un pochino di più di lei che è rimasta qui a Roma, all'altezza del mare. Però la differenza è un miliardesimo di secondo o meno, quindi diciamo non ci vediamo. Come Achille la tartaruga però all'infinito. Però, diciamo, questo miliardesimo. Oppure andando molto veloce, andando vicino a un buco nero, questa differenza diventa molto più grande. Noi sappiamo che questo è vero, lo misuriamo queste cose qua. Adesso la misuriamo anche a dislivello, fra il pavimento e qui. Possiamo mettere due orologi e vedere che quando li mettiamo insieme, quello qui è un po' più avanti e quello giù è un po' più indietro. Ecco, e questo ci mostra che il tempo è diverso da come lo concepiamo di solito e che quindi cosa è? Vuol dire che la nostra concezione del mondo è diversa, è incompleta. Impariamo delle cose in più. Non è che abbiamo imparato tutto, ma abbiamo imparato che il mondo è diverso da come pensavamo, è bellissimo, secondo me. In tutto ciò la gentilezza? Che è una virtù così intimista. In tutto ciò la gentilezza è cruciale, cioè, se mi permette di scivolare un attimo della politica, stavo andando al potere, perché noi li abbiamo votati, tante persone che mettono la brutalità davanti alla gentilezza. La gentilezza è un segno soltanto, ma il cuore del problema, secondo me, certo, cosa vuol dire gentilezza? Vuol dire rendersi conto che se io faccio una cosa verso di te, questo è un mondo in cui tu farei una cosa verso di me, o verso di lui, o verso di lui, o verso di lui, o verso di lui, è un mondo in cui ci evitiamo l'altro. Forse perché tanti che hanno detto di fare così in realtà l'hanno solo millantato e quindi non gli crediamo più. Guardiamo una cosa al contrario. Tutte le città italiane hanno, la maggior parte delle città italiane hanno le mura intorno, quello che resta delle mura. Roma, Verona. Perché? Perché si facevano la guerra l'una con l'altra. Era un mondo in cui uscire dalle mura di sera, fino al 700, essere di notte e mezzo fra Roma e Perugia, voleva dire essere ammazzati dai briganti. Abbiamo imparato che se invece di farci la guerra, stiamo insieme, la vita è molto migliore per tutti, ma molto migliore per tutti. La violenza nell'umanità è scesa, è scesa, è scesa, è scesa. Perché? Perché collaboriamo. Qui da noi, il resto del mondo non è scesa per niente. Sì, è scesa anche nel resto del mondo. Sì? È scesa nel resto del mondo. I dati sono inequivocabili. Nonostante la seconda guerra mondiale, c'è 70 milioni di morti, nonostante i disastri, i secoli precedenti sono stati peggiori. Dopo la seconda guerra mondiale il mondo sta vivendo, in Yemen la gente sta morendo di fame, come mosche, in Sudan, in Siria, in Africa, il mondo è pieno di disastri orrendi e noi invece continuiamo a vendere gli armi e fatti i soldi su questa cosa qua nell'indifferenza. Quindi lungi da me da dire che siamo in un mondo in cui non ci sono problemi, anzi ci sono problemi enormi. Ma c'è molta meno violenza che nei secoli passati. Se andiamo, come penso che purtroppo stiamo andando, verso un aumento della conflittualità, vuol dire ritornare nel mondo quello della seconda guerra mondiale, farci del mare tutti. Ci sono queste armi atomiche che sono là. Ci vuole niente. E con questi problemi veri, secondo me. Lo scaldamento climatico è reale. E la gentilezza allora? Vogliamo un mondo in cui collaboriamo, siamo gentili l'uno con l'altro e cerchiamo armonia fra di noi, non un conflitto. E si parte da sé, dal quotidiano? Sì, e si parte come ci dicevamo tanto quando eravamo ragazzi in quegli anni lì, si parte da noi. Il problema non è prima me, poi te. Il problema è io ti aiuto, tu mi aiuti e stiamo molto meglio tutti, secondo me. Ci vuole una canzone per chiudere e secondo me avrei qualche idea su quale puoi scegliere a questo punto, dopo quel che hai detto. Janis Joplin. Ah no? Mi e Maggie Maggie. Perché? Perché è stata una canzone che ho amato moltissimo, perché ha lo spirito intenso, completo di mettersi in gioco completamente, che è stato il senso della mia vita, mettersi in gioco completamente, non avrei paura. E perché ha questo testo meraviglioso, questi due versi meravigliosi che dicono «Freedom is just another world for nothing left to lose», la libertà è solo un'altra parola per dire «non ho più nient'altro da perdere». Grazie di essersi raccontato a parole e non a formule. Grazie.